Hanno sbandierato i 4 venti, 91, 92 persone in cassa integrazione per giustificare una sola cosa, e cioè la svendita di Sangritana ai privati per rimpinguare le casse di Tua. Accusa ben precisa quella di Camillo D'Alessandro, presidente regionale di Italia Viva. Due giorni fa i vertici di Sangritana, società partecipata di Tua, hanno annunciato la cassa integrazione di 5 settimane per i 92 dipendenti, questo per mancanza di commesse da parte di Stellantis. E 42 milioni di debiti che potrebbero essere coperti con l'ingresso di un nuovo socio, una narrazione che tuttavia non convince D'Alessandro. In realtà è Tua che ha dei debiti nei confronti della sua partecipata, cioè di Sangritana, che non paga e in 4 mesi hanno cambiato 4 amministratori, fino ad arrivare all'attuale direttore generale di Tua, perché non vogliono nessun indipendente da Tua proprio per consumare questo disegno. Ed è un disegno molto 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 grave sulla pelle dei lavoratori, ma anche sulla pelle della competitività del sistema economico-industriale, perché il vettore Sangritana non smuove, non sposta solo le merci di Stellantis, ma anche di altre aziende importanti in Val di Sangro e opera anche fuori la nostra regione. Per chiedere e trovare un partner non si vendono le quote, ci si allea, ci si fa un consorzio, si fanno tante altre cose tranne una cosa sola, cioè svendere un vettore che è l'unico, badate bene, che può entrare in Val di Sangro, perché quello è un binario regionale, quindi non possono entrare altri treni. Questo è un vantaggio competitivo enorme, con la vendita delle quote, questo vantaggio competitivo svanisce, perché l'obiettivo è far svanire Sangritana. Grazie a tutti.